Paolo Marcheschi, Presidente Fratelli d'Italia, Presidente della Commissione Controllo del Consiglio Regionale. Siamo quasi a fine legislatura, che situazione avete trovato, quali sono i più importanti input che avete dato alla Giunta? Sì, credo che la Commissione abbia fatto un buon lavoro, diciamo soprattutto sulla parte immobiliare. Quando ci siamo insediati qualche anno fa, avevamo un gran numero di affitti, la Regione pagava un'enormità di cifre di affitto, oltre che di costi di manutenzione. Le affitti sono stati diminuiti, l'assessore Bugli ci ha promesso che entro il 2015 saranno dismessi quasi tutti totalmente, quindi laddove è stato possibile sono accorpati i numeri di dipendenti in uffici, laddove non è stato possibile abbiamo comprato dei palazzi. La cosa che ancora resta da fare è cercare di efficientare in modo energetico i palazzi che sono a nostra disposizione, abbiamo delle sedi che sono vecchie, in particolare quella di Novoli, pensate che ci costa ancora 4 milioni e passa all'anno, quindi 8 miliardi delle vecchie lire, solo di manutenzione ordinaria. Abbiamo messo mano in conclusione anche a tante opere importanti, quali ad esempio il rifacimento di Villa di Careggi, si è rifatto il teatro della compagnia, tra poco andremo a fare il sovraluogo per capire a che punto siamo, perché si dovrebbe restituire una sorta di casa del cinema a Firenze, quindi anche sui lavori abbiamo tenuto il fiato sul collo alla Giunta.